Ragazzi guardate la propaganda di questi cialtrons, questa Susanna Ceccarti è la più tra il cialtrona dei cialtroni della Lega, un ignorante atavica Dice la pacchia finita, ma vedete anche cosa dicono, è il solito discorso, vogliamo vederci chiaro, sentite cosa dicono Inizia il censimento degli irregolari, ma come si fa a incensire uno se è irregolare, cosa gli fai? Vai per strada e fai, allora tu sei irregolare, uno segna uno, ne ho visto un altro, irregolare Segna due, ne ho visto un altro, segna tre, ma vi rendete il giornale si rende complice di questi cialtroni Inizia il censimento degli irregolari, una cosa impossibile